Scelto a Villa Mare il locale che dovrà ospitare il nuovo ufficio postale dopo la chiusura di quello ubicato in via della Repubblica. A dare informazioni al sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli, è stato direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui il primo cittadino si era rivolto per sollecitare la risoluzione della vicenda che da mesi sta creando disagio ai cittadini. Dalla missiva della segreteria del capo di gabinetto del ministro emerge che poste italiane ha individuato un locale idoneo con i requisiti minimi necessari per ubicarvi l'ufficio postale di Villa Mare e che al momento è in corso la trattativa con la proprietà. Saranno indispensabili, si legge, dei lavori di adeguamento che richiederanno presumibilmente tre mesi a partire dalla data del contratto di locazione. Per sopperire però alla chiusura dell'ufficio postale di Villa Mare la società ha potenziato gli orari di apertura dell'ufficio di Vibonati con sei giornate di apertura il luogo delle precedenti tre. La novità poi emersa dalla lettera è che l'opzione prima rigettata, cioè quella di consentire in qualche modo la prosecuzione del servizio a Villa Mare in attesa dell'apertura del nuovo ufficio postale, è ora di nuovo presa in considerazione. Si legge infatti ancora che l'azienda sta valutando la possibilità di collocare un ufficio postale mobile per il mese di giugno nelle immediate vicinanze dell'attuale sede dell'ufficio postale di Villa Mare.